Allora, se ne sapete che anche due cose importanti che dico sempre, sono ripetitivi ma sembra che non funzionano. Ballate per divertirvi, ok? Se volete fare i batterini, mettetevi un costume, fatemi pagare e fate il vostro meglio perché la pista merita i grandi batterini. Quando venite a ballare, divertitevi, ok? Non dimenticare quando eravate tutti un bicicliente, eh? Di solito adesso è, vuoi ballare con me? Mette il caso che lei dice sì, no? Vuoi ballare con me? Lei dice sì? Vieni qua. Quando dico, con chi hai ballato non lo sanno, non l'ho vista. Allora, venite a ballare e date un senso a questa salsa cubana che abbiamo portato dall'altra parte del mondo e che qua sarà accorta così bene applausi per voi che siete veramente una salsa noi non siamo niente senza di voi di me lo siete questa è una cosa quella che mi gusta a me piace sempre parlare il padre del gruppo perché la gente che quando parla subito diventa bravo dice il padre del gruppo è per quelli che non sanno non è vero perché nel padre del gruppo la metà delle cose si fa più così vieni qua mamma e se fa bene qualche cosa allora la musica maestro è la numero 4 del mio disco è il piramidì forza no 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 io so che te gusta e a te tambien non è perso si se fa male è la numero io xanh Yahvelli facciamo local diverso Dove commerciante viene veramente divertetera ok facciamo local to ¿se qui passa a quals за fútbol le dica Vanno quel peut senza eh? ti sa che l'arrivo? chi ti vuole l'arrivo? hai ci significato a me vai 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 come va? 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 no dai oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.